Sensibilizzare le nuove generazioni sul problema dell'immigrazione e creare un contenitore culturale ed artistico che valorizzi la città e i suoi giovani artisti. Eccola la finalità di UOP, Lasciamo un segno nelle nostre vite, il progetto presentato a Palazzo di Città di Cava dei Tirreni, che sabato 3 e domenica 4 ottobre all'ITC Carducci Trezza vedrà una serie di artisti locali ed internazionali della cosiddetta street art mostrare ai giovani studenti dell'istituto le loro tecniche di disegno e realizzare in poche ore un vero e proprio piccolo museo d'arte contemporanea che poi sarà aperto a tutta la città. Chiaramente l'evento ha una portata notevole dal mio punto di vista, ha un grande valore educativo perché lega un problema sociale a quella che è una delle strategie per diffondere cultura che è l'arte. Come si svolgerà? Sabato mattina avremo la possibilità da parte delle classi interne all'istituto di osservare gli artisti all'opera, circa 24 classi che si avvicenderanno all'interno della palestra e avranno modo di interagire con gli artisti, di avere dei momenti di scambio culturale, apprendere delle tecniche di pittura su un muro e quindi insomma un momento importante, visioneranno filmati, fotografie eccetera. Questo per la mattina di sabato, per il pomeriggio invece sono invitati gli studenti e le famiglie delle sedi distaccate dell'istituto Carducci di Trezza che ricordo ha circa mille studenti, quindi insomma un'ampia platea e in questa occasione intorno alle 5 e mezza del pomeriggio ci sarà la lettura di poesie, insomma l'ascolto di musica, di canzoni insieme a esperti del settore che saranno poi, insomma sono stati contattati direttamente dall'organizzatore Zarrella. Per quanto riguarda la domenica invece l'incontro prevede la visita da parte delle famiglie del territorio cavese, quindi aperto a tutto il territorio, ci aspettiamo un grande afflusso, perché l'arte è uno strumento di cultura fondamentale, l'arte e la bellezza salveranno il mondo, noi ci crediamo molto in questa cosa, quindi ecco perché ho accolto con entusiasmo il progetto e sono certa che con l'aiuto di tutti, insomma sarà un laboratorio di idee, di valori e di cultura. Il tema sociale scelto per questa prima edizione di WAP, Without Passport, termine denigratorio con cui la popolazione americana identificava gli italiani che arrivavano nel nuovo continente, è quello dell'immigrazione e delle tragedie ad essa collegate, in particolare quella avvenuta a largo di Lampedusa il 3 ottobre del 1993, in cui persero la vita 366 immigrati provenienti dall'Eritrea. Si articola essenzialmente con una pluralità di artisti internazionali, che dipingeranno la palestra a Via Carlo Santoro della scuola Carduscitrezza, e alcuni momenti all'interno della palestra dove i bimbi e i ragazzi fino a 13 anni saranno avvicinati a quella che è una tematica sociale, quella dell'immigrazione, ma oltre ai ragazzi è un evento naturalmente aperto a tutti, perché la scuola apre le sue porte alla cittadinanza, a bimbi dai 0 ai 99 anni.